benvenuto a donald sassun che farà adesso una lezione magistralis sul tema il pc le rivoluzioni il socialismo grazie donald il pc nacque come conseguenza di un evento esterno all'italia la rivoluzione russa il pc fu dissolto in seguito a un evento esterno la caduta il muro di berlino e la fine del comunismo e dell'unione sovietica la stessa rivoluzione russa fu causata da eventi globali e non principalmente la lotta di classe all'interno dell'impero russo l'evento globale fu ovviamente la prima guerra mondiale prima di questa il partito di lenin era una forza marginale all'interno dell'impero zarista quando lo zar abdico nel marzo del 1917 i bolcevichi contavano ancora molto poco il nuovo governo liberale russo continuò la guerra e questa fu una delle cause principali della successiva rivoluzione bolceviche direi la causa principale se nella storia si possa mai trovare una causa principale la creazione del pc italiano come tutti sapete è avvenuta in contemporanea con la creazione di partiti comunisti in vari paesi principalmente i paesi europei ciò contribuì alla divisione formale del movimento socialista formale poiché nella maggior parte dei casi il movimento era già diviso non sulle vecchie divisioni ideologiche del tipo dibattito bernstein kalski che erano tra l'altro uniti contro la guerra ma sull'opportunità o meno di sostenerlo formatosi in conseguenza della rivoluzione russa il movimento comunista rimase pressoché irrelevante fino alla seconda guerra mondiale quando riprese almeno in parte a causa del decisivo contributo dell'armata rossa alla sconfitto dei nazisti in cina a causa di una guerra patriottica condotta dal partito comunista cinese contro il giappone e nel caso dell'italia e della francia a causa della resistenza armata viste anch'esse come guerre patriottiche la nascita e crescita del comunismo quasi dovunque e dunque spesso strata stata strettamente legata alla guerra anche i partiti socialisti divennero importanti almeno in europa solo dopo la prima guerra mondiale e ancora di più dopo la seconda rimasero quasi inesistenti nel resto del mondo sebbene le idee socialiste fossero presenti ovunque nei movimenti nazionalisti e anticoloniali tra le due guerre solo in germania e nella francia del fronte popolare che è durato meno di un anno i comunisti acquisirono una qualche importanza politica altrove nel mondo i comunisti contavano poco negli anni venti nelle colonie altrove i comunisti diventarono i principali protagonisti politici solo durante e dopo la seconda guerra mondiale e anche allora solo in cina in indocina esistevano a malapena nelle americhe il partito comunista italiano dopo la sua creazione non poter rimanere a lungo nel gioco politico inizialmente aveva in ammedeo bordiga un leader inefficace e non solo per il suo settarismo ma perché il partito era nato nelle circostanze più nefaste la sconfitta del bienio rosso l'inizio della ripresa economica e l'arrivo di mussolini un destino simile sia verificato altrove in ungheria e in germania le istituzioni compresi i partiti politici sopravvivono alla situazione che le hanno create quando le circostanze cambiano sorgono elementi nuovi e spesso imprevisti che esercitano una pressione costante per la trasformazione e il cambiamento le istituzioni sono quindi costantemente costrette ad adeguarsi ma ciò che i sociologi e gli economisti chiamano credo in italiano dipendenza dal percorso path dependency esercitano anche un'influenza per mantenere molte delle loro istituzioni forme i loro obiettivi originali la dipendenza dal percorso spiega come le decisioni che affrontiamo sono vincolate da decisioni prese in passato anche se le circostanze potrebbero non essere più rilevanti il principio della dipendenza dal percorso spiega perché le cose durano più a lungo di quanto dovrebbero ma non protegge necessariamente le istituzioni in modo permanente vale a dire anche parafrasando il famoso incipit di Anna Karenina che tutte le istituzioni prima o poi falliscono ma ognuna fallisce a modo suo questo vale anche per il comunismo il comunismo era il prodotto di una serie di circostanze straordinarie del tutto irripetibili che una guerra la guerra del 14 18 possa portare a una situazione rivoluzionaria può non sembrare particolarmente speciale ma era relativamente senza precedenti vediamo brevemente le tre rivoluzioni più importanti che hanno preceduto quella russa quella la guerra civile inglese la guerra di indipendenza americana e la rivoluzione francese la guerra civile inglese non fu causata da una guerra o da un fattore esterno non è stata presa come modello e non ha avuto conseguenze internazionali i marxisti la definivano una rivoluzione borghese ma nel diciassettesimo secolo non vi era un capitalismo industriale in gran britannia vi era una borghesia ma non era industriale non era capitalista la causa immediata della guerra civile fu un conflitto tra il parlamento e la monarchia su chi dovesse controllare la fiscalità anche se presto il conflitto acquisì una dimensione religiosa cent'anni dopo l'inizio della guerra civile in inghilterra esecuzione del re nel 1649 repubblica dittatoriale sotto cromwell due restauri charles ii nel 60 e poi william and mary nel 88 un ulteriore cambiamento di dinastia con l'avvento della dinastia hannover nel 1714 dunque quasi cent'anni dopo l'inizio della rivoluzione il parlamento britannico finalmente riuscì a stabilire definitivamente la sua supremazia anche la rivoluzione americana cominciò con una controversia sulle tasse se la gran britannia avesse il diritto di imporre varie forme di tassazione sulle tredici colonie che avrebbero dichiarato la loro indipendenza nel 1776 e dopo una guerra che oggi definiremo una guerra anticoloniale divennero indipendenti costituendo il nucleo degli stati uniti all'epoca in america non vi era una vera aristocrazia ma non vi era neppure il capitalismo l'impatto internazionale della rivoluzione americana fu minimo l'affermazione che tutti gli esseri umani sono uguali coesisteva con un ampio sistema di schiavitù mentre le donne come altrove venivano esclusi dalla vita politica dopo una guerra civile estremamente sanguinosa del 1861 65 in cui morirono più americani che in tutte le successive guerre americane la schiavitù fu abolita sebbene dopo il periodo della ricostruzione ai discendenti degli schiavi furono negati uguali diritti fino ai civil rights act degli anni sessanta e ancora oggi questi subiscono varie forme di discriminazione anche per la rivoluzione francese non vi erano evidenti cause esterne anche se il peso del debito acquisito dallo stato francese nel sostenere la rivoluzione americana fu un fattore importante nella convocazione degli etats generaux l'impatto internazionale della rivoluzione francese fu immenso ed essa è rimasta per molti la rivoluzione per eccellenza dopo la trasformazione della monarchia assoluta in monarchia costituzionale nell'89 poi la repubblica nel 92 l'esecuzione del re nel 93 il periodo del terrore una dittatura militare un impero un restauro nel 15 con i borboni un cambio di dinastia nel 30 con gli orleone una nuova repubblica nel 48 un nuovo impero con napoleone terza terzo la terza repubblica fu finalmente istituita nel 1870 e stabilizzata nel 1880 in altre parole ci ci sono voluti cent'anni perché la rivoluzione francese possa essere veramente compiuta le rivoluzioni del 1848 vennero in tempo di pace fallirono non ci furono rivoluzioni come conseguenze della guerra di crimea la comune di parigi nacque come diretta conseguenza della guerra franco prussiana ma come sappiamo è stato un fallimento quindi la rivoluzione russa e l'eventuale formazione dei partiti comunisti è avvenuta come conseguenza di una congiuntura senza precedenti il partito che è uscito vittorioso il bolsheviki vide se stesso e fu visto da altri come parte di un movimento globale il suo compito non era semplicemente il rovesciamento di un regime e la creazione di una nuova società ma si considerava il pioniere di un movimento globale anche questo è insolito tuttavia vi sono precedenti importanti due religioni universalistiche il cristianesimo e l'islam presumevano di avere una missione globale e infatti furono in grado di diffondersi tra persone che avevano ben poco in comune il buddismo si è diffuso ma è rimasto confinato in asia l'induismo è rimasto in gran parte locale ma l'esempio più rilevante qui è la rivoluzione francese la cui proclamazione fondamentale la declarazione dei droits dell'homme e di citoyen ricalcata sul modello americano presupponeva che i suoi principi fossero universali e potessero essere adottati da tutti la rivoluzione russa come i precedenti movimenti nazional democratici del ventesimo secolo che portarono all'unità di italia e della e della germania e la seconda internazionale creata nel 1889 erano perfettamente in sintonia con la nuova era della globalizzazione nessuna meraviglia dunque che i bolcevichi si considerassero i veri eredi delle aspirazioni del secolo precedente ne erano solo i democratici liberali e socialisti a pensare in termini globali il capitalismo stesso come marx e altri avevano previsto si stava espandendo in tutto il mondo i 50 anni che hanno preceduto la rivoluzione russa sono stati un periodo di globalizzazione senza precedenti la terza internazionale o internazionale comunista del 19 è stata la prima organizzazione non religiosa mondiale della storia il commenter era un vero super partito centralizzato la prima internazionale di karl marx non è mai esistita veramente come organizzazione centralizzata mentre la seconda internazionale proprio come la successiva internazionale socialista era poco più di un ufficio di informazione la terza internazionale tuttavia è stata l'unica vera organizzazione internazionale della sinistra della storia il risultato di una congiuntura unica e senza precedenti degli anni 1917 1921 probabilmente fu l'unico periodo in cui non era irrealistico presumere che la rivoluzione in occidente fosse una possibilità era il periodo che generò praticamente tutti i partiti comunisti d'europa dall'ora in poi in quella delle ironie di cui la storia è così ricca i partiti nati per fare la rivoluzione sarebbero condannati a crescere e svilupparsi nel clima freddo di situazioni non rivoluzionari nonostante la sua natura globalizzata il commenter almeno a parole accettava gli vincoli delle realtà nazionali una delle 21 condizioni imposte per partecipare al commenter la condizione numero 15 richiedeva ai partiti di redigere il loro programma cito tenendo conto delle particolari condizioni del loro paese ma che sia conforme ai deliberati del ai deliberati dell'internazionale comunista la tensione tra le due cose non si sarebbero mai risolte la terza internazionale fu sciolta nel maggio del 43 di nuovo durante una guerra e di nuovo dai leader sovietici per rassicolare gli alleati occidentali in tempo di guerra durante i 24 anni di esistenza le politiche del commenter furono tutte fondamentalmente determinata dal partito comunista sovietico la debolezza della rivoluzione mondiale assicurava la prevalenza del centro e la missione della periferia durante tutti gli anni di esistenza del commenter non è stato istituito un solo regime socialista in nessuna parte del mondo l'unica eccezione fu la mongolia dove l'esercito sovietico intervenne per riprimere le armate bianche condotte guidate dal barone roman von unger noto anche come il barone pazzo così anche la mongolia divenne comunista a causa dell'unione sovietica e dunque a causa di un intervento esterno durante tutto il periodo tra le due guerre solo due partiti comunista dell'europa occidentale svilupparono una significativa base elettorale quello tedesco il capedè e quello francese il pcf negli anni 30 i comunisti contavano ormai ancora solo in francia oscillando tra il 10 per cento del 1932 e il 15 per cento nel 1936 massimo raggiunto da un partito comunista in europa prima della seconda guerra mondiale il dkp nel 1932 proprio prima dell'arrivo di nazisti ottene solo il 13 per cento in spagna erano elettoralmente insignificanti anche nel periodo del fronte popolare quale era la situazione della sinistra italiana cent'anni fa c'erano quattro gruppi il più importante i socialisti riformisti di filippo turati mantenevano che la strategia adottata all'inizio del secolo un'alleanza tra il capitalismo moderno e la classe operaia e dunque un dialogo con giulitti il fascismo rese questa strategia assurda poi c'erano i massimalisti di decenzo serrati che pensavano che bisognava aspettare che la massa si muovesse questa era anche la posizione dei comunisti di amedeo bordiga che presumevano che l'ondata di disordini sociali del dopoguerra il bienio rosso avesse creato una situazione rivoluzionaria quando la situazione cessò di essere rivoluzionari bordighisti non avevano più nulla da dire e presto persero il poco potere che avevano rimane il quarto gruppo quello dell'ordine nuovo di gramsci e togliatti la cui posizione si espresse eventualmente nelle tesi di lione del 1926 nelle sezioni storiche e teoriche delle tesi gramsci e togliatti usano un linguaggio una sottigliezza di analisi non comuni nel movimento comunista ma nelle sezioni politiche più immediate non si discostano dal pensiero dominante del commenter una sottovalutazione cronica del fascismo una convinzione incrollabile della necessità di bolshevizzare il partito comunista è un atteggiamento settario nei confronti della social democrazia gramsci nei suoi successivi scritti sulla di di prigione che divennero noti e studiati a livello mondiale solo dopo gli anni sessanta si rese conto che la rivoluzione era stata sconfitta una visione condivisa del suo contemporaneo otto bauer paradossalmente è comune contrapporre il pensiero sofisticato di gramsci alla crudezza del linguaggio di lenin di stalin scusate anche stalin aveva accettato che la rivoluzione era stata sconfitta l'idea che il consolidamento dell'unione sovietica fosse il compito principale del nuovo stato derivò della consapevolezza che la globalizzazione della rivoluzione era impossibile e che era necessario costruire un socialismo nell'unico paese dove c'era stata una rivoluzione la prima guerra mondiale aveva generato dunque nel 17 il primo stato comunista la seconda guerra mondiale fornì al comunismo europeo una seconda possibilità all'indomani della guerra il modello sovietico si estese in gran parte della parte orientale dell'europa per merito principalmente dell'armata rossa mentre in occidente il comunismo raggiunse nel 1945 e 46 l'apice della sua influenza e del suo potere poi l'europa e con essa il socialismo fu effettivamente divisa almeno fino al 1989 90 quando ciascuno dei vari stati socialisti crollavano sotto il peso del dissenso interno in seguito alla revoca del controllo sovietico divenne evidente che nessuna nuova fenice socialista sarebbe sorta delle ceneri di oltre i 40 anni di sinistra autoritaria la seconda guerra mondiale giovò al partito comunista italiano fu la forza di opposizione dominante della repubblica italiana durante la guerra in politica come in materia militare i socialisti italiani non ebbero mai l'iniziativa mentre i comunisti sapevano esattamente cosa fare dopo il ritorno di palmiro togliati nel marzo del 44 quando il pc ruppe lo stallo politico causato dal rifiuto dei partiti antifascisti di riconoscere il governo monarchico il pc divenne un partito nazionale proprio come la socialdemocrazia tedesca lo era prima e durante la prima guerra mondiale e i comunisti francesi durante il periodo breve ma di massimo splendore del fronte popolare la guerra la seconda guerra mondiale fornì ai comunisti occidentali il loro momento migliore potevano combattere il fascismo e il nazismo essere veri internazionalisti difendere l'urs essere patrioti impeccabili e il tutto senza incongruenza invece di essere insultati e rinchiusi in un ruolo dati da tutti da church da roosevelt da de gaulle il mondo era finalmente diventato bianco e nero con linee di battaglie ben definite da una parte c'erano le forze dell'ombra del fascismo e del nazismo dall'altra parte le forze della luce della democrazia e del progresso sociale la strategia era altrettanto chiara la lotta armata e la trattica insurrezionale in mezzi politici che i comunisti avevano fino allora privilegiato la forma organizzativa di questo combattimento la resistenza richiedeva si avvicinava a quello di un esercito e di conseguenza a quella del partito leninista con la sua struttura di comando dall'alto verso il basso e la sua ferrea disciplina militare i partiti comunisti rivoluzionari che il comitano avevano istituito cent'anni fa quando si pensava che l'europa fosse sull'orlo della rivoluzione erano inadatti alla politica elettorale ma essi si rivelarono la migliore arma organizzativa per la condotta di una disciplinata e intrepida guerra partigiana la causa principale della popolarità del comunismo in occidente nell'immediato dopo guerra fu l'unione sovietica anche la causa principale della sua successiva impopolarità 45 anni di regime autoritari nell'europa orientale non devono oscurare il fatto che la fortuna del comunismo in occidente all'indomani della guerra era dovuta al riconoscimento universale del ruolo preponderante e determinante dell'unione sovietica nella sconfitta della germania nazista dopo i primi successi comunisti del 1945 46 il declino iniziò rapidamente ad eccezione dell'italia e della francia nel 48 il comunismo cessò di avere qualsiasi significato politico come forse indipendente in danimarca e norvegia in austria germania occidentale in belgio e in olanda nonché in gran bretagna dove nel 1945 il partito comunista britannico aveva ottenuto per l'unica volta della sua storia ben due seggi in parlamento uno dei tanti fattori che determinò il destino del comunismo nella maggior parte dell'europa occidentale era che in tempo di pace la dimarcazione tra le tra le rivendicazioni politiche comuniste e social democratiche si era offuscata i comunisti non potevano che offrire una forma di social democrazia più militante e di conseguenza ricevere un solito sostegno principalmente dai lavoratori più coscienti e dagli intellettuali più impegnati un nocciolo duro di militanti organizzati secondo le linee leniniste avrebbe potuto essere tutto ciò che era necessario per sfruttare una 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 situazione rivoluzionaria ma in una situazione non rivoluzionaria era necessario fare appello a un'ampia fascia della popolazione senza allarmarla con militanze di alcun tipo alcuni leader comunisti capirono che il partito leninista doveva essere radicalmente cambiato in italia palmiro togliatti sosteneva un partito nuovo un nuovo partito meno centralizzato e più aperto sostenendo che ora il partito doveva diventare un'organizzazione che facesse appello alle masse e a loro bisogni pochi altri comunisti occidentali seguirono questa via ma anche i dirigenti meno lungimiranti di togliatti capirono di non avere scelta non poteva esserci un ritorno alla strada insurrezionale così la fine della seconda guerra mondiale segnò il definitivo abbandono da parte del comunismo dell'europa occidentale della strada insurrezionale come via percorribile per il potere in una democrazia liberale ma nel clima della guerra fredda la precondizione per l'accesso al potere in occidente fu l'anticomunismo definito come l'accettazione dei valori occidentali i comunisti in occidente non potevano offrire alcuno alcun valido contro argomento il loro comportamento prudente democratico la loro moderazione il loro riconoscimento delle garanzie costituzionali la loro difesa dei diritti civili non erano prova contro la convizione che tutto questo fosse un inganno una doppiezza la loro credibilità si sarebbe accresciuta se avessero rifiutato di dare un sostegno a critico e sistematico alla politica estera sovietica e alle pratiche del socialismo dell'europa orientale e nell'unione sovietica questo non era un'opzione che si presentava realmente ai comunisti occidentali dopo la guerra la leadership di questi partiti non poteva ignorare i propri sostenitori che credevano che ciò che si stava costruendo nell'urs e negli altri paesi dell'europa orientale fosse il socialismo inoltre denunciare il socialismo sovietico avrebbe infranto la principale linea di demarcazione tra socialdemocrazia e comunismo sarebbe stato quindi come sciogliere il partito e aderire alla socialdemocrazia e gli attivisti comunisti così come erano poco creduti dai socialdemocratici a loro volta non si fidavano dei socialisti e dei socialdemocratici questi dicevano parlavano di socialismo ma in realtà si compromettono continuamente con il capitalismo nonostante tutto ciò i comunisti italiani potevano con parecchie giustificazioni dimostrare di essere i principali difensori della costituzione italiana e quindi un partito costituzionale dimostrare di avere contribuito in modo decisivo al consolidamento della democrazia in italia non diventarono mai un partito ghettoizzato come quello francese tagliato fuori dal potere in costante attesa della conclusione della conclusione di un dramma politico in cui non hanno avuto alcun ruolo il massiccio appoggio popolare che ottennero soprattutto nei territori centrali dell'italia e soprattutto nelle città e nei paesi dell'emilia permise loro di sviluppare una forma di socialismo municipale molto ammirato all'estero e molto studiato i comunisti occidentali vissero gli inizi della guerra fredda come venti loro imposti dall'esterno la cortina di ferro il common form la dottrina truman il piano marshall persino la loro partecipazione al governo furono tutti fenomeni che li che li trovarono come il generale di gabriel garfia marquez in balia di un destino che non era il loro divenero il bersaglio di una propaganda frenetica e furono ritenuti responsabili di atti repressivi che non avevano avviato e che tuttavia si trovavano costretti a giustificare come forza di minoranza difesero ostinatamente e coerentemente tutti i diritti civili che la democrazia occidentale garantiva loro ma come comunisti difendevano anche altrettanto ostinatamente tutte le violazioni di questi diritti nelle democrazie popolari orientali raramente una forza politica si era trovata così invischiata in una situazione così schizofrenica lo sviluppo della guerra fredda e la divisione dell'europa hanno segnato il destino dei comunisti in occidente nel modo più mortificante l'opposizione è sempre difficile come disse giulia andreotti in una frase diventata fin troppo famosa il potere logora che non ce l'ha togliatti tentò la storia delle alleanze sociali i ceti medi ma la chiave del potere in particolare nel sistema elettorale proporzionale è fare politiche e fare alleanze politiche con altri partiti politici questo si è rivelato un fallimento il comportamento del partito comunista italiano all'opposizione era basato su due caratteristiche contraddittorie sebbene reciprocamente necessarie un sostegno duraturo per le proprie tradizioni e un adattamento realistico alle circostanze sfavorevoli non per niente cambiamento nella continuità fu uno dei slogan centrali del pc e di palmiro togliati comunque il partito comunista era stato sconfitto almeno dieci anni prima della fine ufficiale del comunismo le circostanze sono ben note a quelli che mi ascoltano in primo luogo c'erano particolarità particolarità locali può essere utile in confronto con la francia in francia la coalizione gollista aveva effettivamente creato le condizioni per un'intesa tra i due partiti di sinistra questo fu il risultato di mantenere tutta la sinistra socialisti e comunisti fuori dal potere e con l'adozione del sistema elettorale a due turni che praticamente costringeva i partiti politici della stessa famiglia di raggiungere un accordo al secondo turno de gaulle dunque fu l'artefice dell'union de la gauche in italia invece la democrazia cristiana fu presto in grado di offrire ai socialisti una fetta di potere questo fu quello che spinse enrico berlinguer a preparare le basi per un incontro accordo tra dc pc e psi il compito del partito socialista italiano sarebbe stato quello di facilitare tale intesa berlinguer stava semplicemente accettando l'inevitabile il compromesso storico divenne rapidamente l'iniziativa politica più discussa degli anni settanta tuttavia la strategia del compromesso storico comportò due errori tatici fondamentali che alla fine contribuirono al suo falimento il primo errore fu di dare per scontato l'appoggio del partito socialista i comunisti in qualche modo presumevano che psi avesse poca scelta se non quella di sostenere il grande piano strategico del pc il secondo più grave errore tattico dei comunisti fu che non ci fu mai una discussione seria su ciò che si doveva su ciò che doveva raggiungere l'eventuale alleanza tra dc e pc il pc faceva costantemente riferimento alla necessità di riforme sociali profonde e radicali ma non era chiaro cosa volessero dire concretamente questa vaghezza potrebbe essere trascurata nelle fasi iniziali della costruzione di un'area ma divenne un grave errore di giudizio quando la dc e il pc stavano discutendo attivamente un programma di governo tralasciando gli inevitabili errori tattici il pc aveva anche commesso due gravi errori strategici in primo luogo tra il 76 il 79 il pc si era comportato come se lo stato italiano fosse uno stato normalmente efficiente come se tutto ciò che era richiesto fossero buone leggi se l'italia avesse avuto una burocrazia onesta e efficiente in grado di fare rispettare la volontà del parlamento leggi buone avrebbero potuto migliorare la situazione del paese ma la pubblica amministrazione italiana era principalmente una macchina per assorbire la disoccupazione proteggere i privilegi stabiliti e consegnare voti alla democrazia cristiana la maggior parte dei suoi dipendenti aveva poco senso civico e proprio è poco orgoglio per il proprio lavoro inoltre un segmento di questa macchina statale la polizia i servizi segreti le forze armate il corpo diplomatico considerava i comunisti il vero nemico tutto questo era ovvio gli stessi comunisti non avevano mai smesso di criticare tale deplorevole stato di cose ma cosa si poteva fare per riformare lo stato bisognava scontrarsi con la democrazia cristiana che lo controllava e che da questo controllo traiva forza e voti tuttavia per condividere il potere era necessario essere accettabili alla democrazia cristiana la questione dello stato fu così silenziosamente dimenticata un'impresa sorprendente per il partito comunista la cui ideologia leninista antecedente aveva teorizzato l'idea che non si potesse semplicemente impossessarsi dello stato borghese e usarlo per i propri scopi ci sono volte e questa è una di quelle in cui alcuni dogmi del passato contengono più verità dei sofismi del presente l'altro grande errore strategico del pc fu di non riuscire a rompere completamente con la tradizionale idea comunista ma anche dei socialisti di una volta secondo la quale il capitalismo avrebbe incontrato crisi catastrofiche già nel 1974 berlinguer aveva insistito sul fatto che non stiamo affrontando solo una delle frequenti crisi cicliche del capitalismo la crisi attuale spiegava coinvolge tutti i settori l'economia la politica la cultura la vita interna di ogni paese l'insieme delle relazioni internazionali questo in un certo senso voleva dire non accettare che le crisi sono meccanismi che permettono al capitalismo di ristrutturarsi la crisi degli anni 70 come si è manifestata poi negli anni 90 ne fu un ben chiaro esempio l'inflazione e la battaglia contro di essa fornirono una opportunità per abbandonare il vincolo della piena occupazione e quindi sconfiggere i sindacati e il sistema di regolamentazione sociale ed economica nazionale che aveva caratterizzato l'antecedente sviluppo del capitalismo la strategia del pc non dissimile da quella della spd del partito socialista francese del partito sociali socialdemocratico svedese e del partito laborista britannico era profondamente e inevitabilmente una strategia nazionale l'idea di un riformismo in un solo paese i comunisti italiani come i loro omologhi altrove vedevano la crisi come il sintomo di un capitalismo nazionale in decadenza incapace di affrontare le sfide del futuro a lungo termine il pc era impegnato nella crescita e nell'espansione delle basi produttive della società a breve termine optava per una politica di austerità intesa come deflazione una politica che contraddiceva il suo obiettivo a lungo termine ma i fallimenti del comunismo italiano dovrebbero essere visti nel contesto dei più ampi fallimenti del movimento socialista il periodo di declino del comunismo coinciso con l'inizio del declino del partiti socialisti l'avvento in francia di miterran poi di jospin poi tony blair in inghilterra gonzalez in spagna papo andreo in grecia craxi come primo ministro in italia e in germania la spd dovrebbe essere visto queste vittorie perché negli anni novanta i partiti alla fine degli anni novanti i partiti socialisti erano al comando in quasi tutti i paesi della loro della loro unione europea questo dovrebbe essere visto come l'ultimo atto del socialismo europeo l'ascesa di breve durata di sirisa in grecia di podemos in spagna di corbin in gran bretagna sono gli ultimi sussulti di un movimento moribondo fuori dall'europa nonostante l'occasionale passo in avanti molti anni fa il cile di allievi e molti anni dopo il brasile di lula il socialismo è rimasto europeo e non solo europeo ma europeo dell'europa occidentale i paesi dell'europa orientale inclusa l'unione sovietica l'ex unione sovietica una volta liberati dal comunismo non hanno adottato se non nella loro fase iniziale il sistema politico della dell'europa occidentale a due partiti un partito di centro-sinistra e un partito di centro-destra si sono divisi in partiti diversamente conservatori e spesso come nel caso dell'ungheria e della polonia reazionari ovviamente il centro di gravità della storia del mondo si sta muovendo altrove anche se è improbabile che la cina riesca a dominare il mondo come gli stati uniti lo hanno fatto nella seconda metà del ventesimo secolo come al solito il futuro è imprevedibile come la storia di questi ultimi cento anni lo conferma fin troppo bene vi ringrazio dell'ascolto grazie 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 molte a donald sassone per questa lezione di storia grazie a tutti i presenti e arrivederci presto a tutti grazie a voi arrivederci grazie a silvio grazie sassone arrivederci grazie a donald per la bella lezione grazie a voi ciao a tutti arrivederci grazie a tutti